Ora permettetemi di presentare il celebrante della messa di oggi che incontrerete tra poco. Siamo giunti qui all'ultima messa. La messa di oggi sarà presentata da Jean-Claude Ollérico Arcivescovo di Lussemburgo, presidente del Comitato delle Conferenze Episcopali nell'Unione Europea. Egli da lungo esorta l'Europa a muoversi verso la solidarietà. Dice che stiamo soffocando le nostre vite in Europa. Abbiamo bisogno di un'evangelizzazione che vada in profondità. Abbiamo bisogno di cambiare, abbiamo bisogno di sentire la voce di Cristo che chiama a un cambiamento profondo. E ha anche delle aspettative su di sé stesso. Dice che c'è una speranza in Cristo. Per me questo significa anche vedere la mia fragilità. E questa fragilità non è una minaccia ma un'opportunità per dire che la mia salvezza è in Gesù Cristo. Lui è la mia speranza e la sua parola, la sua morta in croce e la sua respirazione mi porta a impagnarmi sempre di più per la società più giusta. Vi aspettiamo dopo la pausa pranzo. La mia speranza è in Gesù Cristo. 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 è in Gesù Cristo è in Gesù Cristo è in Gesù Cristo è in Gesù Cristo. per ignoranza, lontano dalla fede, e così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. Tu sei Signore, mia parte di eredità. Tu sei Signore, mia parte di eredità. Proteggimi, o Dio, in Te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei Tu. Solo in Te è il mio bene. Il Signore è mia parte di eredità e il mio calice, nelle Tue mani è la mia vita. Tu sei Signore, mia parte di eredità. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Tu sei Signore, mia parte di eredità. Mi indicherai il sentiero della vita. Gioia piena la Tua presenza. Dolcezza senza fine, alla Tua destra. Tu sei Signore, mia parte di eredità. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 all L'Ectio Sancte Evangelis Secundum Luca In quel tempo Gesù disse ai discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello? Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio. Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dell'occhio del tuo fratello. Verbum Domini Alleluia, 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 alleluia! Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Questo è un vero miracolo della fede, perché la nostra fede è nella sua essenza, la fede in Cristo, morto e risorto per noi. La fede in Cristo che vive in mezzo alla sua Chiesa e in mezzo al mondo. Abbiamo scoperto che la fede è la nostra bussola sui sentiri della nostra Sada, svita. In Europa la fede è una piccola fiamma che in alcune parti del nostro continente rischia di spegnersi. La fede era sostenuta da strutture culturali. La fede entrava nell'anima come i simbiosi con il mondo circostante. Una fede che non è più sostenuta da questo mondo cristiano rischia di diventare vacillente. Ma la fede non si nutre solo dalla cultura. La fede si nutre dal suo oggetto, il Dio vivente, che allo stesso tempo è anche sosseggiotto, è anche la fonte di questa fede. La fede ha come scopo di arrivare al contatto con il Dio vivente attraverso la preghiera e i sacramenti. La fede ha una dimanica missionaria. Deve essere divisa con gli altri. Io prego con tutto il cuore che questa dimensione missionaria della fede sia scoperta di nuovo in Europa. Proprio come una fiamma ha bisogno di legna e aria per rimanere viva, la nostra fede ha bisogno di molte cose. La nostra fede non si vive in astratto. La fede si vive nel cammino concreto di una persona e di una comunità e di tutta la Chiesa. La fede è una dimensione di eternità, perché è fede nel Dio eterno, ma è vissuta nel tempo, nel cammino. La fede apre i nostri occhi per discernere la presenza di Dio nel nostro mondo. La fede che professiamo insieme nel credo ci apre allo stesso tempo all'adesione alla nostra vocazione molto personale. Infatti, la fede è sempre una risposta alla chiamata di Dio. Una fede condivisa apre la Chiesa al cammino della sinodalità. Una singola persona, una comunità e talvolta una Chiesa locale possono smarrirsi sui sentieri della fede. Il cammino sinodale di tutta la Chiesa corregge le nostre strade infruttuose e ci mostra la strada nel deserto e la via d'uscita dal deserto. Nel deserto della nostra vita, siamo tentati di abbandonare la nostra fede e di ridurla al nostro piccolo. La nostra fede deve essere nutrita nei nostri deserti. E quale cibo potrebbe essere più adatto a nutrire la nostra fede se non il cibo eucaristico? Gesù stesso nel cuore della nostra vita. Di nuovo, questo cibo eucaristico della fede è eminentemente personale e allo stesso tempo eminentemente comunitario ed ecclesiale. Non vivere la dimensione ecclesiale della Chiesa ci taglierebbe fuori dalle nostre radici, che è Cristo, e ci farebbe fermare sul cammino che ci porta a Cristo. Sì, la fede è un tesoro che dobbiamo coltivare. Preghiamo durante questa messa per la nostra fede e allo stesso tempo preghiamo per la fede di tutta la Chiesa. Preghiamo perché la nostra fede sia sostenuta dalla speranza. Preghiamo perché la nostra fede sia aperta alla carità. Una fede senza carità ci chiude in noi stessi. La carità è il respiro della Chiesa animata dalla fede. La fede senza opera è morta. Il nostro Papa non smette di ricordarci che come cristiani viviamo nella società e che le sfide dell'ingiutizia devono essere un luogo di impegno cristiano. La fede viva porta all'impegno. La fede in Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. La fede in un Dio, che è una comunicazione d'amore, ci invita ad aprire il mondo ai nostri fratelli. Poiché Dio ama tutti gli uomini, la nostra fede ci spinge a diventare il prossimo di tutti i bisognosi. La fede è un elemento dinamico nella nostra vita in questo mondo e allo stesso tempo verso la contemplazione del Dio vivento. Che questo congresso eucaristica sia un'opportunità per approfondire la nostra fede. Gesù, pane di vita eterna, vieni in soccorso delle nostre debolezze. Gesù dice che abbiamo una trave negli nostri occhi, che non ci fa vedere i nostri prossimi. Non vediamo loro come fratelli e sorelle nostri. Li vediamo come un oggetto della nostra critica. E quando leggiamo Facebook, media sociali, vedo tanti travi. Perché ognuno si sente il diritto di criticare la Chiesa. Chi critica qualcosa per avere la trave nell'occhio sinistro, qui in quello destro, e non vediamo più la strada su cui Gesù ci chiama per andare in questa strada in comune, per lasciare i nostri sentieri piccoli, perché abbiamo travi nei nostri occhi. Dobbiamo andare dietro Cristo, dietro il Papa, che è questo cammino della sinodalità che dobbiamo percorrere. E questo è il nostro cammino che dobbiamo fare con fede e con coraggio, che questo congresso eucaristico sia un'opportunità per approfondire la nostra fede. Gesù, pane di vita eterna, vieni in soccorso delle nostre debolezze. Dio aumenta la nostra fede. Sacro cuore di Gesù fa dei nostri cuori simili al vostro. Amen. Grazie a tutti. Grazie. Adoriamo Cristo, nostro Signore, che con la Sua morte in croce ha offerto Se stesso al Padre per liberarci dai nostri peccati. Signore, hai consacrato la nuova ed eterna alleanza nel Tuo sangue. Concedici di essere sempre fedeli a Te. Signore, hai accettato per noi la sofferenza e la morta in croce. Fa che non ricusiamo di accogliere e apportare la nostra croce quotidiana. Signore, hai promesso di donarci una fonte di acqua zampillante per la vita eterna. Infondi in tutti gli uomini il Tuo Spirito Santo. Signore, hai mandato i Tuoi discepoli ad annunciare la forza salvifica della croce. Dona anche a noi di attingere forza dalla Tua croce nelle sofferenze. Signore, Ti hai meritato per i Tuoi fedeli la grazia della resurrezione e dell'eterna gloria. Dona ai nostri fratelli defunti di godere del compiento delle Tue promesse. Concedi pace eterna alle vittime del terrorismo e delle guerre. Dona pace eterna alle vittime del coronavirus e degli incidenti stradali. Dio nostro, nello scandalo della croce hai mostrato a noi la Tua eterna sapienza e il Tuo infinito amore verso di noi. Concedi che con animo confidente ci vantiamo sempre della croce di Gesù. Egli che vive e regna nei secoli dei secoli. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. 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 di fronte. a tutti. a tutti. . tutti. a 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 tutti.